Mancano sette giorni al voto per le elezioni politiche. Occorre bloccare l'autonomia differenziata che il centrodestra della Lega Lombarda e Company vuole imporre silenziosamente. Una visione politica che porterà il Mezzogiorno e le regioni più povere del Paese a una condizione di maggiore inefficienza di servizi essenziali senza uguali. Non dobbiamo avere paura di confrontarci. Le politiche dei prossimi cinque anni dipendono da ognuno di noi, dipendono dal voto di ognuno di noi. E sia chiaro, maggiore sarà il numero di persone che non andranno a votare, minore sarà il numero di persone che decideranno chi dovrà invece governare il Paese per i prossimi cinque anni. Non votare non impedirà la formazione di un governo. E chi come me crede in un'Italia che fonda le sue riforme su principi di equità, dove la dignità della persona viene prima del profitto di pochi? Chi come me crede in un Paese unito e solidale tra regioni tra regioni? Chi come me crede in un Paese che non può avere servizi diversi da regione a regione, differenziati rispetto alla propria capacità contributiva? Domenica andrà. Andrà e voterà e chiederà di votare per il Partito Democratico. Domenica scegli, scegli il Partito Democratico.